Video dermatoscopio è questa l'apparecchiatura che il Lions Club della Spezia ha donato alla struttura semplice dipartimentale di dermatologia del presidio ospedaliero del Levante Ligure. La video dermatoscopia è una tecnica diagnostica non invasiva che consente di evidenziare strutture epidermiche e dermiche, pigmentari e vascolari non apprezzabili ad occhio nudo a causa del fenomeno fisico di riflessione e rifrazione della luce. La video dermatoscopia è una metodica imprescindibile nella pratica clinica del dermatologo moderno e molto semplicemente consiste nella acquisizione di immagini video dermatoscopiche, e quindi attraverso una sonda ottica che trasmette le immagini a un computer grazie al quale poi possono essere studiate, analizzate e successivamente archiviate e confrontate durante le visite successive. L'apparecchiatura che è costata circa 18 mila euro è in funzione da un mese e permette quindi di migliorare in maniera significativa la diagnosi. Io e i miei colleghi stiamo utilizzandolo circa un, due, tre volte al giorno, quindi è arrivato da un mese, centinaio di volte, siamo già molto contenti. I tumori della pelle sono in aumento nella nostra provincia, questo perché il tumore interessa tipicamente gli anziani e l'età media è piuttosto alta. È altresì vero però che migliori sono le diagnosi e quindi sono riscontrabili il più delle volte melanomi più piccoli e quindi guaribili. Quello che è la cosa più importante è che grazie alle campagne di sensibilizzazione avvenute negli anni precedenti e anche all'utilizzo di queste nuove metodiche la diagnosi in tutta Italia è veramente più precoce. La maggior parte dei melanomi, quelli che sono i tumori che hanno una prognosi peggiore, vengono diagnosticati per la maggior parte quando sono in strato sottile e questo strato sottile corrisponde a guarigione e sopravvivenza del paziente. Soddisfazione da parte del Lions Club che anche in questa occasione è riuscito a raccogliere grazie all'organizzazione della consueta sfilata di moda del torneo di burraco e del mercatino vintage i fondi necessari per fare qualcosa di davvero concreto per il territorio. Il nostro motto è We Serve, noi serviamo la comunità. Per noi è stato importante un qualche cosa che potesse avere una ricaduta sulla prevenzione dei cittadini delle malattie. Perché anche l'attrezzatura è sicuramente importante ma poter avere una strumentazione che possa essere utilizzata al fine di prevenire delle malattie per noi è stata veramente una cosa importante. Quindi siamo lieti che sia stata ben accettata e soprattutto che sia stata utilizzata da subito.